In questo esempio andiamo a trattare il posizionamento di un video all'interno di un canale YouTube In questa schermata simuleremo la ricerca, ovviamente rigorosamente in navigazione anonima in modo tale da avere una ricerca quanto più pulita possibile e lo faremo anche per un argomento abbastanza complesso quindi proveremo a cercare con delle chiavi secche e delle chiavi molto corte un corso SEO e lo faremo in lingua tedesca Ci spostiamo quindi nella barra di YouTube e inseriamo la chiave corta che vogliamo cercare in questo caso Völler SEO Course, quindi corso SEO professionale Come potete vedere i primi video che vedete, questi che si chiamano Völler SEO Course Lection sono i nostri e a parte qualche altro video di qualche concorrente nella stragrande maggioranza i video del corso in tedesco compaiono vi sposti uno sotto l'altro, sono parecchi, sono una trentena di video e quindi vanno a occupare tutte le prime posizioni anche se cambiamo chiave, quindi adesso cerchiamo una chiave un po' più competitiva cioè Compact SEO Course, ovvero corso SEO completo che è anche la chiave principale a cui volevamo appuntare come potete vedere in questo caso, da questo canale qui quindi dal canale tedesco della SEO Magic siamo andati a posizionare in modo praticamente perfetto tutti i nostri corsi dal primo all'ultimo, la struttura di un corso poi a livello di ottimizzazione è quella classica, quindi c'è una meta title, una meta description e altre operazioni da fare che vedremo in seguito quello che importa a noi adesso è il risultato che è questo questo è proprio il concetto di visibilità all'interno di un canale video perché nella stragrande maggioranza dei casi la ricerca di un video, come in questo caso parte direttamente da dentro al canale video dove si vuole cercare ciò che serve in questo caso stiamo parlando di un posizionamento di video all'interno di un canale YouTube che, come tutti voi sapete, è il canale video più famoso al mondo il risultato è sicuramente elevato adesso andiamo a rifare la ricerca partendo invece dalla SERP e quindi simuliamo per la stessa chiave questa ricerca in un canale tradizionale cioè all'interno di Google che, come vedete, in questo caso è stato impostato in tedesco se simuliamo la ricerca inserendo appunto la chiave COMPACT se è occorsa la risposta che otteniamo in una SERP è la seguente, quella che vedete in una prima posizione troviamo l'estratto presente nel canale YouTube del video e a seguire tutti gli altri concorrenti in questa SERP ci viene presentata anche un'anteprima di quelli che sono i video che Google ritiene migliori in quanto ad attinenza alle chiavi cercate e come potete vedere gli unici video che Google presenta in questa SERP sono appunto i nostri anche se la vera ricerca di un video all'interno di una SERP non avviene con questa metodologia in quanto la ricerca di un video all'interno di Google avviene in un apposito canale che è appunto il canale video infatti se dovessimo per davvero cercare un video all'interno di una SERP queste chiavi qui le digitiamo nella barra ma le cercheremo nel canale video e in questo caso come potete vedere cliccando la voce video ciò che otteniamo è una risposta più che completa infatti tutta la prima pagina è occupata dagli estratti dei video della playlist presente in YouTube e questo accade anche se simuliamo la ricerca con l'altra chiave che ci interessava quindi non solo Compact SEO Course ma anche Voller SEO Course pertanto se rifacciamo lo stesso percorso logico che abbiamo fatto con la prima chiave con questa nuova chiave otterremo la stessa risposta questo è l'obiettivo di un posizionamento per le nostre risorse riuscire a guadagnare la prima pagina partendo da una ricerca che possa essere diretta all'interno del canale di YouTube piuttosto che in un canale video in una SERP di Google grazie 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 grazie